E' qui che troverete il Macbeth più drammatico e più spettacolare in cui potersi immergere. Per un'avventura così entusiasmante come questa non potevamo trovare un partner migliore. Sarà infatti la Fura del Baus a lavorare con noi alla produzione di questo Macbeth presente nel luglio prossimo a Tons on the Stones. Il Macbeth che realizzeremo in questa cava magnifica partecipa al Fedora Prize, una competizione internazionale che valorizza, sostiene e finanzia le migliori produzioni in ambito artistico e nel nostro caso operistico. E' quindi fondamentale il vostro supporto che si esprime attraverso un voto che ci aiuterà senz'altro a fare questo percorso e a realizzare nel migliore dei modi questo progetto. E' quindi fondamentale il Macbeth.